Sicurezza nelle scuole, pochi entrano in via D'Amato. A Campobasso dopo le elementari di via Crispi la protesta si estende alla primaria. I genitori si rifiutano di lasciare i bambini nell'istituto poco fa. Nuova scossa di magnitudo 2.9. Riscossione dei tributi, caos e polemiche. Ancora controversie per il servizio esattorie. Dopo la giudicazione dell'appalto, dubbi sulle assunzioni e sulla irregolarità del concordato. Polveri sottili, soglia superata al nucleo. La denuncia del Movimento 5 Stelle, confermata dai rilievi dell'ARPA ai livelli della zona industriale. In Basso Molise sono andati oltre il consentito in 43 casi negli ultimi 5 mesi. Campionato Juniores, domani il derby al Civitelle-Agnone-Campobasso, mentre l'Isernia ospite il Giulianova. Nel calcio a 5 di Serie B, Isernia e Ciaminadi in casa. Campobasso in trasferta. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Tg delle 14. A Campobasso si estende anche alla primaria di Via D'Amato la protesta sulla sicurezza degli edifici scolastici. Oggi i genitori non hanno mandato a scuola i propri figli. Intanto resta l'emergenza per la primaria di Via Crispi, ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Lo avevano annunciato al sindaco nel corso dell'assemblea convocata al comune per affrontare l'emergenza della scuola di Via Crispi. Non avrebbero mandato i propri figli a scuola oggi in segno di protesta. Sono i genitori della primaria di Via D'Amato che sulla scia di quanto deciso dal sindaco di Campobasso sulla scuola di Via Crispi, chiusa per 10 giorni, chiedono che lo stesso studio sulla vulnerabilità sismica venga condotto anche sull'edificio di Via Pianese. E questa mattina sono stati in pochi, anzi in pochissimi, ad entrare in classe. Su circa 200 alunni, al massimo 20 bambini hanno varcato la soglia della scuola di Via D'Amato. Una protesta che dovrebbe andare avanti anche nei prossimi giorni in attesa di con i genitori che il sindaco confermi le rassicurazioni date sulla sicurezza dell'edificio, fornendo la necessaria documentazione. In sostanza è un po' quello che da me si chiedono i genitori degli alunni di Via Crispi, costituitisi in comitato, e che uno primo risultato sono riusciti a portarlo a casa, la chiusura del plesso scolastico, per consentire analisi più approfondite da parte dei tecnici dell'Università di Perugia. Uno studio che dovrebbe essere completato tra una decina di giorni. Nel frattempo i bambini frequenteranno le lezioni nel pomeriggio nelle aule della scuola media Colozza. Una situazione di emergenza, le cui conseguenze sono state affrontate nell'assemblea che si è svolta nella sala consigliare del comune, alla quale hanno partecipato i genitori della primaria Nicola Scarano, oltre a un gruppo di quella di Via D'Amato. Un incontro affollato ma anche infuocato, caratterizzato dallo scontro tra il sindaco Battista e il consigliere comunale Cretella, ma anche dalle contestazioni mosse dai genitori che hanno criticato l'immobilismo dell'amministrazione comunale che ha atteso il terremoto per chiudere la scuola, quando invece la richiesta di notizie sullo stato dell'edificio, inoltrata dal comitato, era partita mesi addietro. Per il momento non resta che attendere l'esito delle verifiche, perché da quelle dipenderà il futuro dell'edificio, ma anche quello degli alunni e delle loro famiglie. Una cosa appare certa, i genitori non consentiranno ai propri figli di concludere l'anno scolastico con i doppi turni. L'amministrazione è chiamata a dare risposte certe ed immediate, preparandosi sin da ora al peggio. Se la scuola infatti dovesse essere ritenuta a rischio, il comune dovrà trovare una sistemazione adeguata ai circa 300 alunni. Su questo i genitori non concederanno sconti, ne faranno un solo passo indietro. Tanto continua lo sciame sismico. Nuova scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 13, di magnitudo 2.9, così è stato registrato sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro sempre tra Baranello, Busso e Vinchiaturo. Intanto un incontro pubblico si terrà questa sera alle 18 a Baranello per informare i cittadini su come comportarsi durante le maxi emergenze, appunto come terremoti, alluvioni, incendi e così via. L'evento si terrà nella nuova scuola ed è stato organizzato dall'amministrazione comunale e il gruppo di protezione civile interverrà come relatore il professor Romano Torto, esperto nella gestione dei soccorsi delle maxi emergenze. E parte questa sera alle 21 su Telemolise, ingresso libero, il nuovo talk show del venerdì condotto da Enzo Luongo. Nella prima puntata si parlerà dello sciame sismico di questi giorni, coinciso con il maltempo di scuole sicure e di protezione civile. Ospiti in studio il consigliere regionale delegato alla protezione civile Salvatore Ciocca, l'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, il presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis, il sindaco di Campobasso Antonio Battista e il presidente dei geologi molisani Giancarlo Delisio. Interverranno inoltre tra gli altri l'ex governatore Michele Iorio, l'ex sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo e il direttore del centro terremoti dell'istituto di geofisica Alberto Michelini. In collegamento telefonico è previsto l'intervento del giornalista Gian Antonio Stella. L'occhio della Corte dei Conti sugli incarichi conferiti da frattura a finire nel mirino della magistratura contabile una consulenza affidata all'avvocato Carmela Lalli. Tra i fedelissimi del presidente le irregolarità rilevate sono state già segnalate alla procura presso la Corte dei Conti. Il contratto stipulato con Carmela Lalli risulterebbe inefficace e l'avvocato rischia di dover restituire le somme percepite nel 2015, cioè circa 92 mila euro. Sentiamo Pasquale Di Bello. L'idea che il presidente frattura sia un addetto ai disastri, già ampiamente diffusa tra i molisani, comincia adesso a circolare anche tra i suoi amici e tra questi proprio quelli del cerchio magico di cui si circonda. Quando lo incrociano lungo i corridoi della regione ormai tutti hanno preso a fare scongiuri e scaramanzie di vario tipo. A pensare che frattura vada disseminando il terreno di mine deve essere ad esempio in queste ore l'avvocato Carmela Lalli, consulente di frattura per le attività giuridiche, sulla cui testa sta per abbattersi non la classica tegola ma un intero tetto. Rischia Conti alla mano di dover rifondere la modesta cifra di 92 mila euro equivalenti al compenso percepito per l'anno 2015 in forza della delibera numero 68 adottata dalla Giunta regionale il 10 febbraio di quello stesso anno. Con tale atto amministrativo la regione conferiva all'avvocato Lalli l'incarico di consigliere del presidente della regione per le attività giuridiche. Sulla opportunità di tale iniziativa lasciamo ai molisani il giudizio, avendo l'amministrazione al proprio interno, figure che senza nulla togliere alla professionalità dell'avvocato Lalli, lautamente retribuita ma che qui non è in discussione, potrebbero ampiamente consigliare frattura nei diversi campi dello scibile umano. Per restare sul piano delle attività giuridiche, frattura dispone ad esempio proprio in giunta di un legale, l'avvocato Vittorino Facciolla, che non è certo uno sprovveduto sceso dalla montagna con la piena. Ma torniamo ai pasticci di frattura, perché questa volta a rilevarli non è l'informazione astiosa, come la chiama quel Mozart del rancore che il consigliere ciocca, ma i giudici seriosi azzimati della Corte dei Conti. La sezione di controllo per il Molise, nella donanza dell'11 novembre 2015, ha preso in esame l'incarico conferito all'avvocato Lalli, rilevando irregolarità graviettali da poter ipotizzare il danno erariale. Per questo gli atti della sezione di controllo sono stati trasferiti alla Procura presso la Corte dei Conti. In particolare, quello che contestano i giudici contabili è la mancata pubblicità da parte della Regione dell'incarico conferito all'avvocato Lalli, secondo quanto dispone l'articolo 15 del decreto legislativo 33-2013, meglio conosciuto come decreto trasparenza. In pratica, il sospetto della Corte dei Conti è che l'incarico alla Lalli sia stato imboscato nel mare magnum degli atti regionali e non nella specifiche obbligatoria sezione dedicata all'amministrazione trasparente. L'atto così concluso sarebbe, secondo la norma, inefficace e farebbe scattare la restituzione dei compensi percepiti. Le conseguenze a questo punto potrebbero essere nefaste non solo per la Lalli, ma anche per il dirigente che ha omesso tale pubblicazione, tenuto a pagare una somma equivalente a quella corrisposta. Insomma, dopo la fiducia persa dai molisani, Frattura è incaduta libera anche presso il cerchio magico. Di questo passo rischia che gli rimanga un solo amico, il Ficus Bonsai, ereditato insieme agli arredi regionali e forse di questo passo anche il Ficus, incontrandolo la mattina, si attarderà a fare inequivocabili segni di scongiuro e scaramanzia. Caos e polemiche per il nuovo servizio di riscossione dei tributi regionali nel mirino. Il bando di gara e le assunzioni della società che si è aggiudicata all'appalto. Il servizio di Enzo Di Gaetano. Vertenza ex esattorie, mentre si avvia a faticosamente a regime l'operazione di riscossione del bollo auto regionale attraverso la nuova concessionaria del servizio, la RTI, che all'inizio aveva assunto solo sei dipendenti, invece dei 14 garantiti nella sua offerta, continuano a piovere polemiche e accuse, anche abbastanza pesanti, da parte degli ex lavoratori e delle agenzie private abilitate anche loro a riscuotere la tassa automobilistica a nome della regione. In particolare ci sono delle analogie con il grande caos di fine anno 2013, quando l'ACI recapitò a circa 80.000 cittadini molisani le ingiunzioni di pagamento del bollo. Buona parte di queste si rivelarono infontate e tutti i cittadini che fecero ricorso in commissione tributaria per la scadenza dei termini della notifica vinsero il loro ricorso. È doveroso ricordare questo episodio per chiarire che anche con la nuova società che gestisce il contenzioso, le lettere risultano essere state postalizzate a Napoli il 31 dicembre e risultano essere tutte in lavorazione a partire dal 4 gennaio, pertanto appare evidente che anche quest'anno, visti i risultati del 2013, molte persone faranno ricorso in commissione tributaria per contestare la scadenza dei termini, avendo ragione. Fin qui il bollo auto, mentre sul fronte degli ex dipendenti c'è Lorenzo Straccialano che fa notare alcune anomalie del concordato ottenuto da esattorie. La legge, dice Straccialano, stabilisce che i crediti di lavoro rientrino nella categoria dei privilegiati, ma la realtà è ben altra. Infatti tra i legali nominati ci sarebbero due avvocati già noti per aver rappresentato l'azienda in passato e in aggiunta ad essi un terzo che risulterebbe essere addirittura parente dell'ultimo presidente in carica della società. Nella procedura viene nominato come collaboratore esterno l'ex presidente di esattorie, regolarmente retribuito. Ciliegina sulla torta, conclude Straccialano, la procedura decide di indire una gara per l'assegnazione del servizio di scansione degli archivi cartacei dell'azienda che viene aggiudicata alla Descan, il cui unico socio amministratore risulterebbe essere sempre l'ultimo presidente in carica di esattorie. Poiché i compensi spettanti ai professionisti, ai collaboratori e dalle aziende che operano per la procedura rientrano nelle spese prededucibili del concordato e quindi liquidate come tali, non resta che un'unica amara conclusione. I crediti riscossi nella procedura rientrano in parte nelle tasche dei proprietari dell'azienda e chi ci rimette sono sempre gli ex lavoratori che ad oggi sono ancora in attesa di un primo piano di riparto. Allarme e polveri sottili al nucleo industriale di Termoli. Negli ultimi cinque mesi ci sono stati ben 43 superamenti dei limiti consentiti per legge. C'è la denuncia del consigliere del Movimento 5 Stelle Nicola Di Michele. Manuela Iorio. Al nucleo industriale di Termoli sta succedendo qualcosa. Negli ultimi cinque mesi le temutissime polveri sottili conosciute con la sigla PM10 hanno superato i limiti consentiti per legge per ben 43 volte quando in un anno non dovrebbero oltrepassare le 35. Secondo la norma di riferimento le polveri per non essere nocive non devono superare i 50 microgrammi per metro cubo. In alcuni giorni dei cinque mesi presi in considerazione tra agosto e dicembre 2015 i valori registrati hanno superato anche del doppio il limite previsto. Dati che sono stati rilevati dalla centralina dell'ARPA che monitora lo stato dell'area che si trova tra Campo Marino e Porto Cannone proprio sopra il nucleo industriale. Finora non se ne sapeva niente e chissà per quanto tempo ancora non si sarebbe saputo se non fosse stato il consigliere comunale di Termoli del Movimento 5 Stelle Nicolino Di Michele a sollevare il caso inviando una nota con i risultati a Regione ARPA, Provincia e Comuni. È evidente che al nucleo sta accadendo qualcosa chi controlla quelle cabine di monitoraggio quali sono le cause di questi inquietanti valori anomali e soprattutto ci sono rischi e pericoli per la collettività domande che si pone di Michele e su cui gli enti dovrebbero dare una risposta. In primis l'ARPA che con una nota inviata dal commissario straordinario Antonella Lavalle fa sapere che i dati si riferiscono alla sola centralina numero 4 quella appunto che sovrasta il nucleo industriale senza però fornire spiegazioni sulle cause che invece aggiunge saranno oggetto di un approfondimento che avverrà in sede di redazione della relazione sulla qualità dell'aria anno 2015 nell'ambito della quale verrà effettuata una valutazione integrata dei dati in relazione alle condizioni meteoclimatiche all'intensità del traffico dei veicoli al riscaldamento e alle attività di industria e agricoltura. Un documento che viene reso pubblico durante l'anno consapevole però evidentemente dell'allarme che la diffusione di questi dati ha generato nella popolazione che vuole sapere se vive in un territorio inquinato il commissario dell'ARPA ha concesso una deroga facendo sapere che a breve fornirà una prima informativa su quanto segnalato quello che però lascia perplessi è che a diffondere questi dati debba essere un consigliere comunale. A Campobasso la mentele nella zona del quartiere CEP all'istituto della casa dello studente dove i genitori hanno segnalato la presenza ai genitori degli alunni la presenza di ghiaccio e di cumuli di neve che durante l'orario di ingresso e di uscita dalla scuola creano appunto disagi e anche qualche pericolo agli alunni e agli stessi genitori la presenza di cumuli di neve accatastata dagli spartineve e dai bobcat è stata segnalata anche in periferia in particolare molti cittadini lamentano la mancata pulizia dei marciapiede e il fatto che le bassissime temperature non sciolgono la neve ammassata ai lati delle strade e proprio accanto ai marciapiede ed in questi giorni la notizia del ritrovamento di resti umani di ossa a Limosano nella chiesa di Santo Stefano nei prossimi giorni nuovi sopralluoghi per chiarire l'accaduto e il ritrovamento una nostra truppa è stata sul posto vediamo un teschio e delle ossa resti di uno scheletro umano sono stati ritrovati a Limosano accanto alla chiesa di Santo Stefano durante un'attività di sgombero neve alcuni ragazzi si sono accorti di queste ossa ed hanno avvisato subito le autorità il giorno dopo tutto il paese si chiede a chi appartengano anche se per molti non è una novità tutte e tre le chiese anche se sia Santo Stefano che Santa Maria adesso sono chiuse dal terremoto ci sono delle cripte dove sono conservate dai resti diciamo umani o dai frati o dai preti che una volta nella chiesa di Santa Maria c'è una cripte dove sono conservate i resti umani dai vescovi perché quella era una vecchia diciamo così qua era una sede vescovile quindi per noi non è una novità aver ritrovato queste cose nelle stanze sotto la chiesa io la notizia l'ho letto stamattina dal giornale non sapevo niente da ieri per me non è una novità a confermare questa tesi le parole del tecnico comunale andato sul posto per dei sopralluoghi è solito nelle nostre zone trovare al di sotto delle chiese comunque ossa e resti rimanenti in passato si faceva molto spesso si faceva così insomma quindi è facile avere questi ritrovamenti nelle nostre zone ma ci sono anche persone che hanno accolto con stupore la notizia e che spinti dalla curiosità raggiungono la chiesa per vedere con i propri occhi il posto del ritrovamento che idea vi siete fatti in paese? che curiosità è una cosa strana ma forse adesso che sono i monici che ci stavano sono morti l'hanno lasciata o le seppellivano nelle chiese quindi un po' di stupore c'è non la trovate una cosa normale? le morte c'hanno al cimileo trovarle nelle case stupore c'è anche curiosità la curia è stata avvertita e nei prossimi giorni ci saranno nuovi sopralluoghi ora bisognerà capire con esami specifici a quando risalgano e a chi appartengano e fino ad allora il giallo resta irrisolto Ancora polemiche a Isernia per il trasferimento dei bambini della scuola dell'infanzia dalla sede storica della San Giovanni Bosco ai locali di Cicchetti i genitori contrari alla decisione del comune si sono incontrati per trovare una soluzione alternativa nel frattempo il dirigente scolastico annuncia delle novità che potrebbero rimettere tutto in discussione ma sentiamo le ultime novità nel servizio di Sergio Di Vincenzo Non si arrendono i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Isernia di portare i loro figli nei locali di Cicchetti così come stabilito dal commissario Saladino non vogliono saperne nelle ultime ore hanno chiesto e ottenuto un incontro con il presidente della provincia Coia affinché l'ente benché quella scuola non rientri nelle sue competenze dia loro una mano nell'individuare una soluzione alternativa Oggettivamente i bambini hanno bisogno di proseguire il programma scolastico di stare con gli altri bambini possiamo tenerli a casa anche in oltranza però non mi sembra corretto quindi chi ha il potere di trovare una soluzione perché sicuramente non è possibile che una città in una superficie del genere che è Isernia non c'è un solo edificio idoneo ad ospitare sette aule dell'infanzia mi sembra assurdo questo discorso non lo posso neanche concepire perché non posso crederci diverse le proposte alternative messe in campo una di queste prevede il trasferimento di quattro aule nei locali della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a San Lazzaro mentre le restanti tre potrebbero essere ricavate nell'ala agibile della San Giovanni Bosco accanto ai bambini della primaria le altre ipotesi al momento sono queste i locali dell'auditorium quelli adicenti all'auditorium però non so se in questo caso potrebbero ospitare i bambini della scuola dell'infanzia però diciamo o anche quelli dell'università a pesca potrebbero essere una struttura idonea sono di esperienze di genitori che hanno avuto bambini dai cicchetti sostanzialmente le aule sono molto piccole mi dicevano poi dal punto di vista delle altezze non ci sono come quelle stabilite dalla legge e i locali diciamo non sarebbero idonei anche sopra il numero per i bagni il commissario sembra essere tuttavia fermo sulle proprie posizioni certo è che i genitori non sembrano affatto intenzionati a mandare i loro figli nella sede scelta da vertici di Palazzo San Francesco ma nelle prossime ore potrebbero esserci altri colpi di scena il dirigente scolastico Mariella Di Sanza a prescindere dai favorevoli ai contrari al trasferimento ha annunciato di aver dato in carico un tecnico indipendente di elevata professionalità affinché effettui con apposite strumentazioni gli accertamenti relativi all'idoneità e alla salubrità dei locali di Cicchetti in caso di esito negativo lunedì non darà la sua autorizzazione allo svolgimento delle attività didattiche assumendosene ogni responsabilità intanto oggi in prefettura a Isernia c'è stato un incontro per fare il punto sulla vulnerabilità degli edifici scolastici della provincia con i rappresentanti del comune dell'amministrazione provinciale del servizio di protezione civile e regionale il provveditorato alle opere pubbliche l'ufficio scolastico ai vigili del fuoco e l'ordine dei geologi per ora la situazione è sotto controllo ha detto il prefetto Guida ma la maggior parte degli edifici è stata realizzata molti anni fa e dunque questi edifici non hanno i requisiti richiesti dalle nuove normative antisismiche in ogni caso i fondi a disposizione delle istituzioni dovranno essere utilizzati al più presto per mettere in sicurezza le scuole esistenti o per realizzare nuovi edifici intanto l'ufficio scolastico regionale della Molise ha annunciato che il mese prossimo saranno effettuate verifiche in tutti gli edifici scolastici della provincia di Isernia sul nuovo polo scolastico che dovrà sorgere a Canneto nella valle del Trigno a servizio di otto comuni non si trova ancora la quadra i sindaci abruzzesi prendono tempo quelli del versante molisano invece vanno avanti e chiedono un incontro al governatore Frattura Manuela Iorio il tempo a disposizione non è infinito lo spopolamento delle aree interne dei piccoli centri procede a grandi passi e se non vengono garantiti servizi minimi come quello della scuola difficilmente il fenomeno lo si potrà affermare lo sanno bene i sindaci di questi comuni che fanno i conti ogni giorno con i tagli dei trasferimenti statali e con collegamenti stradali da terzo mondo per questo in cantiere c'è da tempo un progetto di polo scolastico che racchiuda le materne le elementari e le medie da realizzare a Canneto e a servizio di otto centri della valle del Trigno tra Molise e Abruzzo e cioè San Felice Monte Mitro Monte Falcone del Sagno Rocca Vivara Torre Bruna Castel Guidone San Giovanni Lipioni Eccellenza sul Trigno un preliminare d'accordo già c'era per la scelta di Canneto come sede zona già infrastrutturata nell'incontro però con i governatori D'Alfonso e Frattura era emersa la possibilità di spostare la sede a Celenza sul Trigno addirittura a Dogliola sfruttando un finanziamento del programma Barca sulle aree interne e la possibilità di allargare il servizio ad altri comuni abruzzesi i due presidenti avevano lasciato carta bianca ai sindaci che nell'ultimo incontro avuto però si sono spaccati i centri dell'Abruzzo non sono più tanto convinti prendono tempo a Celenza poi è caduta pure l'amministrazione tempo che però è prezioso per questo i comuni del Molise hanno deciso di andare avanti col progetto delegando il sindaco di Rocca Vivara a chiedere un nuovo incontro a Frattura i soldi già sarebbero disponibili il progetto c'è ora si tratta solo di chiudere e vedere chi ci sta e chi no il tempo di rinvie delle indecisioni è ormai scaduto torniamo adesso a parlare della manifestazione studentesca di ieri a Isernia perché Casa Pound precisa che non si è infiltrata nel corteo ma che lo ha organizzato la manifestazione dicono i rappresentanti del movimento è stata voluta dalla consulta studentesca guidata da Francesco Sorrentino responsabile del blocco studentesco che è il sindacato appunto degli studenti di Casa Pound sarebbe dunque stupido concludono sabotare un'iniziativa che noi abbiamo organizzato ieri si ricorderà ci sono stati degli screzzi con i movimenti riconducibili alla sinistra che hanno chiesto di rimuovere simboli di carattere politico durante il corteo e bene precisare non si sono registrati disordini un weekend ricco di appuntamenti sul fronte scolastico quello che si apre domani a Campobasso alle 10 del mattino nella sede di Via Veneto dell'istituto Pilla sarà presentato il centro start-up gestito da ex studenti che si occupa di imprenditorialità individuale nel pomeriggio di domani e domenica sempre al Pilla Open Day per illustrare l'offerta formativa anche nella sede dell'istituto agrario di Via Manzoni Via Le Manzoni domani mattina a partire dalle 11 invece nell'Aula Magna del Pertini di Via Scardocchia sempre a Campobasso incontro con l'autore una mattinata dedicata alla poesia con Bibiana Chierchia Sabrina Lembo Leontina Ricciuto e Tiziana Antonilli Open Day domenica mattina dalle 10 alle 13 sia al Pertini sia all'IPIA Montini di Via San Giovanni al Cuoco di Corso Bucci Al Mio Molise nel nome di Francesco Longano Dovidio Iovine ha 50 anni dall'autonomia e il libro del professor Francesco De Piscopo presentato al Circolo Sannitico di Campobasso l'iniziativa è stata organizzata dalla Società Italiana per la protezione dei beni culturali sezione regionale sentiamo il filo conduttore del libro del professor Francesco De Piscopo dell'Università Federico II Fondo di Napoli ha un nome Francesco che accomuna oltre l'autore tre grandi personalità della cultura molisana vissute in epoche diverse Longano Dovidio Iovine a 50 anni dall'autonomia è il sottotitolo Al Mio Molise nel nome di Francesco è il titolo del volume presentato al Circolo Sannitico di Campobasso nell'ambito della prima iniziativa dell'anno organizzata dalla Società Italiana per la protezione dei beni culturali sezione regionale e dalla sua presidentessa Isabella Storri i tre personaggi Labate e filosofo Francesco Longano che alla fine del Settecento descrisse i viaggi per il contado di Molise e la capitanata il filologo e critico letterario Francesco Dovidio candidato al Nobel per la letteratura e senatore vissuto a cavallo tra 800 e 900 e Francesco Iovine tra gli scrittori italiani più importanti del secolo scorso con i suoi romanzi sul Molise è un atto d'amore quindi la necessità di dover ecco coniugare la mia personale modesta autobiografia con questa regione ecco passando però attraverso questi autori nei quali mi sono spesso riconosciuto nei quali ho ritrovato si può dire più che trovato dei compagni di viaggio e di avventura ecco delle persone che mi hanno invitato molto più a capire ecco questa realtà ecco perché noi amiamo ma dobbiamo anche soprattutto capire quindi tornare al passato non è altro che un segno per immaginare veramente un diverso futuro durante la presentazione gli interventi di Michela D'Alessio dell'Università della Basilicata del Maestro Domenico Fratianni e l'introduzione di Isabella Storri c'è un altro Francesco che ha legge nel libro che è Francesco De Sanctis alla cui poetica De Piscopo si ispira e poi c'è sempre Papa Francesco comunque è un libro molto bello perché oltre che parlare di questi tre grandi molisani è un libro anche autobiografico secondo proprio l'assunto di De Sanctis e De Piscopo lo chiarisce nelle prime pagine per cui autobiografia e letteratura possono se non coincidere comunque andare parallelamente L'Arcivescovo Bregantini questa mattina ha visitato le poste centrali a Campobasso dove è stato accolto dalla direttrice la dottoressa Angela Iacampo ha salutato i dipendenti sottolineando l'importanza del lavoro che svolgono per la comunità anche a Isernia su iniziativa dell'Arcigay Molise domani si terrà una manifestazione per chiedere di accelerare l'iter parlamentare del disegno di legge che prevede le unioni civili e le adozioni il nostro servizio Anche l'Arcigay Molise scende in campo per aderire alla manifestazione nazionale in programma domani in diverse piazze italiane per chiedere di accelerare l'iter istituzionale sulle unioni civili domani pomeriggio a Isernia è previsto un incontro al quale è invitata a partecipare l'intera popolazione indipendentemente dall'orientamento sessuale e dalle opinioni in merito a tali questioni Una manifestazione nazionale in 72 piazze italiane per quanto riguarda unioni civili e step child adoption poiché il 28 gennaio verrà portato in Parlamento il disegno di legge di D.L. Cirinna Noi di Arcigay Molise abbiamo deciso di muoverci e di aderire alla campagna Da qualche settimana anche qui in Molise straordinariamente è nato l'Arcigay Molise un gruppo di giovani giovanissimi che hanno intenzione di discutere dei diritti civili della persona anche qui in questa nostra terra perché non è più tempo di indietreggiare ma di andare avanti sui diritti della persona La rappresentanza parlamentare di SEL considera questa legge anche un po' troppo arretrata rispetto a quelle che sono le normative europee quindi sì per noi non c'è differenza tra madre e padre o due genitori dello stesso sesso che siano uomini o donne l'importante invece è superare quella violenza aberrante che a volte avviene anche nelle famiglie tradizionali L'appuntamento a Esernia con la manifestazione a sostegno dei diritti civili è per domani a partire dalle 16.30 nella sede dell'Arcigay in piazza Celestino V sono previste testimonianze dirette scambi di opinione da parte di ragazze e ragazze genitori e professionisti che operano nel sociale Io penso che sia necessario e importante per tutta la popolazione soprattutto per la popolazione giovanile manifestare a favore dei diritti civili questo indipendentemente dall'orientamento sessuale di ogni individuo e di ogni cittadino perché è necessario che ogni individuo possa avere il diritto di amare di costruire una propria famiglia è tutto il nostro Tg delle 14 termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per gli aggiornamenti intorno alle 15 buon pomeriggio a l'infermio a l'infermio Grazie.